Mare, carnevale, cucina, musica e lettura sono questi i cinque ingredienti delle state fanese in vetrina venerdì scorso alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la prima del settore in Italia Anche Fano dunque ha avuto uno spazio dedicato all'interno dello stand della Regione Marche presentando così i principali eventi che caratterizzano l'offerta turistica della città Alla Bitta erano presenti il vicepresidente del Consiglio regionale Minardi, il sindaco di Fano Seri il presidente della Carnivalesca Cecchini, l'assessore fanese al Turismo e Cultura Stefano Marchegiani il direttore artistico del Fano Jazz Pedini e Borgiani della Confesercenti Per la prima volta dopo tantissimi anni Fano rioccupa uno spazio dedicato nel padiglione Marche cosa che negli anni precedenti non avveniva, è uno spazio importante perché al di là delle presenze alla conferenza stampa ma poi è materiale che viene promosso e distribuito nella rete nei canali di informazione della Regione e soprattutto della Fiera Minardi poi ha sottolineato l'importanza degli eventi presentati che per le loro caratteristiche sono unici nella Regione il Festival Jazz che richiama appassionati e amanti di questa musica da ogni parte del mondo il Festival Nazionale della Saggistica Passaggi cui partecipano ospiti di altissimo spessore il Festival Internazionale del Brodetto che porta a Fano in un periodo di bassa stagione una grande quantità di visitatori ampliando così l'offerta turistica della città e il Carnevale che si svolge sia nel periodo invernale che durante la stagione estiva sono eventi che arricchiscono Fano per l'offerta turistica ma sono anche eventi in grado di richiamare turisti e quindi di promuovere Fano e le Marche a livello nazionale e internazionale quindi Fano rientra nel quadro regionale come un'opportunità di promozione ma anche come un'opportunità di accoglienza entusiasta anche l'ente carnevalesca soprattutto dopo il grande successo ottenuto nell'ultima edizione l'associazione ente carnevalesca che è di un'associazione così libera siamo arrivati a quasi 2000 iscritti quindi questo ci fa molto piacere e riserviamo a tutti voi delle grandi sorprese per la grande edizione del 2017 che ci proietterà ancora più in alto grazie